ciao ragazzi sono il vostro cocodilo matto 7 center che vi parla e siamo qui a games impact sono qui per spiegare un po meglio la missione extra di monstrad 3 scambio equivalente a molti di voi non si attiva adesso vi spiego meglio come fare a tutti i passaggi come fare attivarlo perché poi le dovete prima di tutto arrivare a uscidere il dragone dei monstrad appena che avete sconfitto il dragone potete arrivare qua alla nostra cattedrale dov'è che si trova victor che si troverà qua victor insomma dopo di quello del momento noi andremo sotto il nostro libro qua ho detto libro perfetto qua ci sono i nostri 4 in cariche giornata i nostri 4 in cariche giornata si espandono sotto tutto il mondo più avete esplorato più missioni sono casuali sono suddivise ma noi andremo a premere la freccia giù e se saranno casuale monstrad, Liu, il nasuma eccetera eccetera più che avete sbloccato più 7 andate avanti io ho sbloccato solo monstrad non sono andate nelle zelze avventurieri di nessun'altra parte quindi è solo monstrad dovete andare anche voi premere sotto monstrad non casuale sotto monstrad dopo un po di tempo ogni giorno vi saranno quattro missioni zonata qua apparirà la missione di nome scambio equivalente e che vi chiederà di venire qua qua da victor che è un video che ho fatto in precedenza che continuerà in quello per attivarlo dovete aspettare giorni perché è casuale il problema non è che appena che mettete monstrad vi capita quella lì che non avete fatto quindi può andare via qualche zona però l'unico modo per poterlo sbloccare è di premere la freccia giù e fare monstrad perché sennò vi capiteranno tutte le altre città tutte le missioni delle altre città e non vi sbloccherà mai questa qua della monstrad è per questo motivo che tanti di voi non hanno potuto attivarla bene spero di di essere stato chiaro se avete altre domande scrivetelo nei commenti e se non avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e se avete ancora problemi scrivetelo nei commenti che provo a risolverli ecco il nostro amico victor è un po come si può dire è difficile attivare la sua missione quindi spero che vi sia dato un buon aiuto ciao ciao al prossimo video